Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti al mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui sul secondo DLC di Spider-Man Marvel, Spider-Man Territori Contisi Abbiamo appena conosciuto anche Hammerhead e abbiamo capito che c'ha la testa un po' dura, direi anche abbastanza, oltre a essere naturalmente super spaventoso Naturalmente come passate a noi, vi invito a questa notte, un bel commento, un bel mi piace Ci avviciniamo verso gli uomini di Hammerhead, visto che in pratica dovrebbero minacciare un testimone scomodo Ah, ancora ci stai? Eh, male, male Si, finché nessuno ti spara è una discreta figata Si, hai ragione Miles, però è meglio che te ne vai adesso Ecco Vabbè, se ne stavo andando, abbiamo capito Non servivano rinforzi Per me sì Non è difficile guidare per qualche isolato Hai visto cosa sta succedendo? Io non mi fido di nessuno Si stanno muovendo Devo seguirli nel caso qualcuno si presentasse senza invito Ok Vabbè, tanto noi siamo abituati a seguire super detenuti, super veloci, quindi questi vanno pure lenti, figuriamoci Possiamo anche azzeccarci qualche caprioletta nel frattempo Non portare sfortuna Dai Perché rischiare? Perché la sivertizione è un'idiozio Eh, c'è ragione Mi sembra quella di FIFA che ogni tanto piazza ci buttano la zeppata e perdiamo No, vado dall'altra parte, spada, che mi fai, spada? Siamo un po' troppo veloci per i gusti di questi qua, eh Invece ci fate fare adesso tutto il tragitto? Siamo tutto tranquillo Eh, infatti Troppo tranquillo Troppo Perché non c'è nessuno a sentirmi dire queste frasi in effetto? Ok Per adesso non ci stancano nessuno Certo facciamo delle caproni sensazionali Sgherri di Ammeret Sempre nel posto sbagliato Il momento sbagliato Devo proteggere il testimone Non vi stancate mai, dipende Insomma, io a un certo punto mi stancherei di brutto Ma magari sono io Ok Attenzione E dai, oh, e dai Ok Questo è quello che mi dà più fastidio Perfetto Non so se ce ne sta ancora un altro Non lo so No Ok, meno male Per togliere di mezzo gli altri gherri di Ammeret in giro per la città Ah, vabbè Questa è la robetta per ciò che riguarda Le sfide, secondo me Ecco qua qua Come va la caccia? Beh Ho una pista sui padrini Tu come ti senti? Stank Ho chiamato le famiglie ed è filato tutto liscio Ma È tutto duro Molto duro Andava fatto Ci penso io, Yuri Fidati Li portiamo un altro orologio al bambino All'Auerbach Theater Per fare da babysitter ai padrini I padrini sono lì dentro 3, 5, 7 Sembra tutto tranquillo Che chiaro Tranquillissimo Era quello con i capelli L'ho visto, l'ho riconosciuto Sì, è tranquillissimo Allora Attenzione Ma anche col fatto che non mi ricordo spesso dove stanno gli agget Perdo un po' più tempo del solito A volte Ok Aia Non lo so Perfetto Vediamo se c'è stato un po' vicino Che c'è a cui? Perfetto Ma che ne so? Ma che ne so? Non ci fossilizziamo su tante cose Dove state, raga? Che non vi vedo? Perfetto No Eh, vai, vai, vai Questo ne dovrebbe essere anche un altro Ok Questi mi fanno impazzire Ok Qui qua Ragazzi davvero Dicono tutti che questo è meglio on demand Uh, aspetta Fatemi staccare questo Ecco, bravissimo Eh, ma ti sei nascosto qua Per belino Anche esplosivi Devo fare presto Sì Andiamo a tempo qua Quindi Mi sa che è meglio che non ci intagliamo così tanto Ah, bentornati Questi pure erano tosti Grazie Grazie Allora Ok Ok, penso che sia morto No Oh, chiavolo Mamma mia Siamo arrivati alla fine I padrini dovrebbero essere al sicuro Meglio entrare e controllare di persona Ok Vai Donde vamos? Non saprei Spero che i padrini stiano bene Dovranno cambiare nascondiglio Oh, speriamo che sono morti Di qua? Sì Ragazzi, dovreste rivedere le vostre misure di sicure Sa Sa Mi sa che siamo alla ritardia Ovviamente Ci sono gli scavatori corazzati Come no? Accidenti Non è andata bene Yuri Ho tornato il costume pronto Con i padrini Cosa? Com'è possibile? Hai presente le armi che hanno rubato a Savon? Beh, erano più evolute del previsto Avevi promesso di risolvere il problema Mi hai detto di stare tranquilla Sì, è vero Ma ho fatto un casino Scusa Ok Basta pause Devo riprendere in mano la situazione Ti chiamo quando ho un piano Cavolo Bello Sei incazzata? Vabbè, può capitare Ultima chance completato Voglio capire se ci abbiamo Anche dei nuovi poteri Con il nuovo costume Ma a me sa proprio di no Perché questi qua Ci erano già bloccati Alle unità in zona Rispondete Ascoltami Amered non può continuare ad armarsi E quegli scavatori blindati Rischiano di fare a pezzi Il nostro deposito Voglio smistare le attrezzature Sable In più magazzini Per moltiplicare i versanti E costringerlo a dividere le truppe Ok Ok Eh ma neanche a me mi piace Ci sta anche abbastanza Un pochettino Insuttando Ok Arriviamo A tutte le unità Presenza di nemici armati Pronti ad attaccare I trasporti Aia Non per molto Dobbiamo stare attenti qua Ok raga Però Di solito non andate veloce Però Che è successo All'improvviso di essere schizzati C'è una cosa Sopra il pad Che mi dava fastidio Ok Qualcuno ha informato Amered del piano Devo eliminare i cecchini E liberare la via Ok Bene No 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 Ok Bene È fatta Ora possiamo Ok è fatta Ha eliminato i cecchini Quare di Eh rischio Sei intelligenti Se devi essere al poligono Devo correre avanti E liberare la strada Ok Troveva e capire Dove cavolo vanno Bravo Ecco Devo mettere le mani Su armi e tecnologie Di seconda Ok Aspetto Ce ne dovrebbe stare Quanti altri due Eh ragazzi Ho sempre sparito Stiamo becchiando Penso che morirai Da questa altezza Vero? Sì Ah ste battute Mi fanno morire Vabbè Ok Però è figa Questa cosa Che dobbiamo seguire Le macchine Da questa parte qua Ma poi i cecchini Dove li troviamo Scusami Qua non ci stanno Postazioni Appostarsi Ecco Anche se questo Dove andare meglio Vieni qua Vieni qua Ma ragazzi Che fate Sparate a me? Ok Bello questo colpo Non manco capito Ma dove cavolo sta? Ma affetta Ce ne stavo Ok Basta Userò a parte Ho deciso Che si chiamano così Ok Dove stanno? Dove stanno? Altre Scrappate cose Ok Ok Basta Userò a parte Ho deciso Che si chiamano così Allora Questa Uh Allora Ce ne sta qualcun altro Sì Ah C'è questo C'è questo Che ce ne Ok Ok Attenzione Questo è forte Attenzione Questo è forte Vai Ok Raga Provo di ottenere una mano Niente da fare Mano niente Allora Ok Ok Ma miseria Ma miseria Questa non muore mai Aia Non ce l'ho più Ma questa non muore mai Ok Niente da fare Un po' di scariche elettriche Ok Ok È morto Ah Anche da là state Ok Meno male Lontanissimo Eh Già sappiamo Che sono L'altro che è sicuro Devo darmi una mossa Non bastano rinforzi Abbiamo Spiderman E dobbiamo stare A posto Ma sopra tutto Non ce le può dare a noi La scorsa vita Eh Anche perché noi Non abbiamo fatto niente Almeno per adesso Ci siamo Ok Che brutta Vabbè Ok Secondo me siamo andati così Lento Non lo so Attenzione Inserano Ma queste Allora La miseria Allora Iniziamo con questo Vai Ok Ancora C'è Tutti grossi Sun Ok Il potere Il costume È pronto Ok Mamma mia No All'altra parte Che è meglio Un po' di pausa E andiamo Ok Ok Aia Attenzione di qua Che forse Vai Comunque Se no Non state tanto Sparando Ok Oh Mamma mia Che fatica Che fatica Ok Vabbè Che trampa Tecchiappiamo Adoro I piani Ben riusciti Hai presente Ragno Questo è il vostro Piano Questo Mi sfugge Vabbè 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 Perché sto parlando Tutto sto tempo Non lo so Eravano arrivati Così Vabbè 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 Uno sta lontanissimo Perché rallenti Così tanto No 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 Vai La miseria La miseria Vai Stiamo perdendo Troppo tempo Ok Vai Su Ciao Ciao E ciao Ciao E andiamo Perfetto Ancora una Forza Eh la so L'ho vista Che c'è Stacca Altra La miseria Ah Qua c'è Troppo Spazio Aperto Si sente Da qua Le frenate Ok Dovremmo esserci Ok Vai E andiamo Ciao ragazzi Servizio In alto E qua Ancora Ok Ciao E andiamo Con questo Iori Che tempismo Ho appena Qui Ameret Voleva tenerti Impegnato E ci hai riuscito Devi tornare No no Porca miseria Dove dobbiamo andare Chiamate il pronto soccorso E avvitateli Della situazione Devono stare pronti Era solo un piano Per sviarne Dal vero obiettivo Di Ameret E ma Io Devo andare E ma io Di la vita Abbastanza Pessimista Però Iori Sembra A posto Fisicamente Almeno E' forte Ma tutti Cedono Prima o poi Ma mai quanto te Magari ci facciamo Dare una mano Da Myers Oh no Una strage? Yuri, dobbiamo collaborare. Ti consiglio di starmi lontano. Questa storia non finirà bene, me lo sento. Beh, fa tutte e due. Porca anghiere, ragazzi. Stavolto ho incasinato tutto. Yuri aveva uno sguardo. Devo trovare Ammered prima di lei. Ma come? Non ho più uno straccio di indizio. Forse potrei fare una ricerca per parole chiave sui canali della polizia, sperando che parlino di Ammered o del Maggia. Mentre a parte potrei fare un giro in città e scoprire cos'altro ha in mente Ammered. Ah, ho capito cosa intendi. Un attimo, c'è una parola chiave. Che è successo? Ripeto, ci segnalano una sparatoria al locale di Ammered. Il bar senza nome, inviate le unità disponibili. Qualcuno ha attaccato il bar senza nome. Devo arrivare lì prima della polizia e raccogliere informazioni. Ok, quindi mi sono andato ad andare un'altra volta al bar senza nome. Mi sbaglio che sta piovendo. Ho dovuto fare qualche missione secondaria, qualche sfida più che altra, se non mi piaceva andare più avanti come altro momento. Vabbè, ci vediamo direttamente lì. Segnalazione da Douglas. Arriviamo, eh. Ci sono dati pesanti. Eh sì. Prova a scendere. Sono arrivato prima della polizia. Vediamo cosa è successo qui. Mmm. Questo credo sia morto. Yuri. Non ho mai visto Yuri perdere il controllo così. Ehi, quello cos'è? È nostro. Spiderbot. Wow. Non avrei mai sperato di rivederti tutto intero. È un telefono. Ne sa. Chiamata da Vinny. Pronto? Gino, dove sei? La poliziotta ha fatto saltare il magazzino sulla terza. La poliziotta? Watanabe, o come ti chiama? Ha distrutto tutto. Io posto i feriti al Mercy General, poi raggiungo gli altri e mi preparo per stasera. Sì, giusto un ripassino. Che succede stasera? Hai preso una botta in testa. Sì. Il grande show. Il capo vuole tutti sul pezzo. Datti una mossa e vai al punto di ritrovo. Il grande show. Il grande show. A bere dà un piano per i padrini. Ma devo saperne di più. E la pista migliore è trovare questo Vinny. Spero di arrivare in tempo al Mercy General. Porca misera, ragazzi. Secondo me ci aspetterà veramente lo... Come si dice? Spatafascio più totale. Ok ragazzi. Penso a questa parte. Posso terminare qui. Naturalmente a questo video come se mettiamo in su. Un bel commento. Un bel mi piace. Ci vediamo se abbiamo appassionato. Bye. L'espressione che aveva. L'ho vista sul volto di troppi criminali. Ma mai di un agente di polizia. Ciao. 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 Grazie a tutti.